Il Teramo è sempre primo in classifica, Gambino è sempre primo nella classifica dei marcatori, sotto questo aspetto le buone notizie ci sono. Però poi è arrivata questa sconfitta di Recanati e adesso sabato non potete sbagliare. Sì, è arrivata la sconfitta per quanto riguarda i miei gol, ripeto come ho detto mesi fa, l'anno scorso l'ho vinta, però non ho vinto il campionato. Quest'anno preferirei arrivare secondo nella classifica Cantoniere, però vincere il campionato. Abbiamo perso una partita, secondo me, dove abbiamo interpretato una partita malissima, sia mentalmente che poi tecnicamente e tatticamente. Per quanto riguarda il fatto anche del mister che non c'entra niente, secondo me è la partita domenica perché se andiamo a rivederla abbiamo fatto degli errori noi personalmente e non il mister. Però il calcio è anche questo e dobbiamo rimborcarci le maniche. Da Cifaldi ad Ammazzalorso cosa cambia? Io non lo conoscevo Ammazzalorso, ho visto questi due giorni, sta lavorando tanto sulla tattica. Lavoravamo anche prima, però forse il fatto che il mister non ci conosce o vuole lavorare tantissimo sulla tattica è proprio per vedere le nostre caratteristiche. A partire da sabato adesso siete molto più responsabilizzati, quindi col Trivento non avete scelta, dovete vincere e basta. Beh, anche perché se qualcuno pensava che il problema fosse Cifaldi adesso tra virgolette non ci sono più alibi perché la società ha fatto questa scelta, quindi adesso sta a noi, cercare di vincere per noi e soprattutto per il mister che so che sta soffrendo tantissimo e quindi bisogna giocare per noi e per lui. Vuoi mandare un saluto? Sì, ma io l'ho chiamato anche ieri e l'andrò a trovare perché comunque abbiamo avuto quest'anno dei diverbi col mister, però forse proprio perché siamo caratterizzamente uguali. Adesso ci lega un affetto che nessuno, anche questi sogni, non riuscirà a dividere, infatti lo saluto qui e andrò a trovarlo sicuramente.